Durante l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici della storica azienda Tessila Retina Cantarelli, svolta mercoledì 1 luglio, l'accordo tra la parte sindacale e quella datoriale è saltato. Per CGL e CISL il piano della proprietà che prevede la costituzione di una new co che dovrebbe partire il 15 luglio con 150 posti di lavoro sicuri su 220 con abbassamento del salario base è un sacrificio troppo duro per i lavoratori, che dovranno anche accettare il trasferimento da Rigutino a Terontola, a 30 km dal capoluogo a Retino. È stato l'ex assessore Barbara Bennati a sollevare la questione della Cantarelli durante il Consiglio Comunale per sollecitare la nuova amministrazione a preoccuparsi della vicenda, una tra le tante del settore economico in forte difficoltà. Prima della pausa estiva mi premeva sottolineare questi due importanti ed urgenti temi, delle realtà economiche e strategiche per il territorio a Retino che non trovano ad oggi soluzione e pertanto prima possibile arrivare a interpellare anche gli organi sovraordinati e cercare di creare delle reti anche a livello locale affinché si trovino delle soluzioni per queste crisi imprenditoriali. La risposta dell'amministrazione si lascia attendere. Comanducci si riserva di rispondere all'interrogazione per iscritto per studiare meglio la situazione. Era una delle richieste di questa mattina a cui io ho preso tempo in quanto l'amministrazione comunale non ha grandi poteri però dovrà sicuramente vigilare. È molto importante perché è una ricaduta negativa sul tessuto sociale a Retino quindi bisognerà vigilare e cercare di aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà ma come sai benissimo sarà molto difficile perché la situazione è già molto avanzata. Intanto i sindacati hanno proclamato due ore di sciopero per giovedì prossimo con assemblea fuori dall'azienda centrale.